buongiorno a tutti dar papi allora che cosa volete voi che volete di che volete vogliono mangiare ragazzi ci abbiamo un gatto nero qui nuovo da dove è uscito che sta tutto ingrifato perché ha visto la vecchia che gli andava vicino vieni qua vieni qua che mangi pure tu dai domani hanno cinque maniano pure sei oh ho capito voi dovete prima rispondere a quello che vi dico io buongiorno buongiorno giorno giorno ma sono tutti quanti allora milu romeo poi ci abbiamo pupo ci abbiamo elsa ci abbiamo tigra e dovete di una cosa regà buona domenica a tutti di un po che c'è buona domenica grazie e poi dovete di un'altra cosa italia quattro zampe ollus la voce di tanti pelosetti del mondo l'ha detto proprio bellissimo pupo dai li fanno magnava che c'hanno una fame ma il nero dove sta c'era un gattino nero che si aggirava da queste parti cercheremo di documentare anche l'arrivo di questo ma qui arrivano proprio da soli e siete troppi non ti devi la metà che c'è questa vuoi questa è guarda qua chi c'ho guarda quello guarda quello come si sta arrabbiando vecchia lascia star gattino nero vieni qua dai che fanno magna tutti cercheremo guarda questo come sta cercheremo di avvicinare anche il gattino nero che stamattina in questa domenica mattina si è presentato nel nostro rifugietto siete contenti siete contenti eccolo vieni qua vieni qua amore mio vieni vieni qua vieni te fanno magna pure a te vieni eccolo eccolo qua ci abbiamo un eretto nuovo non è uscito questo non lo so comunque i gatti erano cinque e mo sono diventati invece sei ci abbiamo anche questo nero piccolino buongiorno come ti chiamiamo gli hanno già menato no no come ti chiamiamo a te come ti chiamiamo non lo so vabbè comunque novità qui nel rifugio del papì e niente ragazzi stamattina ci abbiamo questo nuovo ospite e non ho capito da dove è uscito questo gattino nero tutto quanto nero allora ci abbiamo praticamente adesso quattro gatti rosci una gattina grigia e poi ci abbiamo anche uno nero non lo so tu che cosa sei che cosa sei poverino che cosa sei tu sei piccolino vediamo un pochettino se sei maschietto femminuccia vediamo un pochettino se sei maschietto femminuccia è un'altra femminuccia ecco così stiamo veramente a posto ce l'abbiamo anche una femminuccia nera ci abbiamo di tutto qui si magna tutti quanti insieme prima gli hanno dato due pizze per allontanarlo ma lei non ne ha voluto assolutamente sentire comunque vedi che si sta a dedicare anche lei al momento colazione della mattina tutti questi sono i gattini dell'italia quattro zampe hollus ma io non ho capito ma tu da dove sei uscito di dove sei di dove sei di dove sei tu mi dividi di dove sei se volete un gattino nero una femminuccia nera ce l'abbiamo ora come si butta a mezzo magna qui si magna raga questa è la nostra domenica mattina ok niente non mi sembra non mi pensa proprio più nessuno ormai basta basta tutti quanti a mangiare poverini i nostri gattini italia a quattro zampe hollus aiutateci perché noi solo grazie a voi possiamo essere la voce di tanti pelosetti del mondo grazie a tutti